Don Dario Vitali, docente di ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana, membro della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. Stamattina abbiamo ripercorso le origini del rinnovamento, una lunga storia. È un cairosso questo giubileo. Con quale sguardo ci approcciamo? Con quale animo vivere questo anno appena iniziato? Beh, intanto che è un cairosso. Bisogna spiegare che è momento opportuno, che è tempo di grazia. I tempi di grazia non li stabiliamo noi. Il calendario li può offrire, ma poi dipende da noi, dalla nostra apertura allo spirito. Quindi una opportunità come questa è dono di grazia. Chiunque può aprirsi allo spirito, ogni persona, ogni comunità e gruppo, il rinnovamento intero è la Chiesa che è chiamata ad aprirsi allo spirito perché vive dello spirito. Essere nella Chiesa, come coloro che vivono dello spirito e dei doni dello spirito, significa anche, come cairos, come tempo opportuno, rioffrire alla Chiesa questi doni e la consapevolezza che la Chiesa vive di questi doni e dello spirito che è il dono al di sopra di tutti i doni. Ci viene consegnata quindi un'eredità preziosa da questi 50 anni di storia. Come essere veramente il lievito che fermenta nelle nostre comunità, a partire dal basso, come ci richiama Papa Francesco? Come essere testimoni credenti e credibili nelle nostre Chiese locali? Allora, intanto il rinnovamento, come ogni altra realtà associativa, vive nella Chiesa a condizione della Chiesa. Quindi dalla Chiesa riceve, alla Chiesa deve rioffrire. Dalla Chiesa riceve ogni dono che proviene dallo spirito, alla Chiesa rioffre quello per cui è stato suscitato. Quindi se è nato come corrente di grazia per offrire alla Chiesa esattamente questa consapevolezza che la Chiesa vive dello spirito, alla Chiesa deve riconsegnare questa consapevolezza e questa gioia di vivere dello spirito e dei suoi doni. Quindi all'interno pregare, invocare per la Chiesa perché sempre sia scossa, sia animata, sia mossa dallo spirito, all'esterno mostrare come accogliendo lo spirito tutti questi doni e queste grazie fruttificano e trasformano il corpo della Chiesa e anche la presenza e la testimonianza della Chiesa nel mondo. Un ultimo opportuno riferimento al sinodo appena avviato. Il 10 ottobre il Santo Padre nell'Omelia per la celebrazione di apertura ci ha ricordato l'importanza dell'arte dell'ascolto. E lei stamattina la relazione ha ribadito come sia importante non soltanto il diritto di parlare ma il dovere di ascoltare. Ne siamo capaci? È un problema. Intanto sottolineare il dovere di ascoltare prima del diritto di parlare è assolutamente fondamentale perché la fede nasce dall'ascolto. Fides ex audito. Ascolto la parola di Dio, ascolto dello spirito ma ascolto anche dello spirito che parla nei fratelli perché ognuno in ragione del battesimo ha ricevuto questo dono dello spirito. Poi mi sembra che potrei ricordare qui un messaggio che ho ricevuto da un amico quando avendo letto una intervista sul sinodo dove sottolineavo che il popolo di Dio per lunghi secoli è stato passivo ma perché è stato tenuto in uno stato di sudditanza e di passività forse non saprà parlare e forse i preti che hanno parlato per lunghi secoli senza dover ascoltare forse non sapranno ascoltare. Quindi significa prima cosa che dobbiamo educarci all'ascolto. Educarsi all'ascolto significa ricordarci sempre che anche quando non funzionasse dobbiamo sempre ricominciare. Altra cosa, una volta che ci educhiamo all'ascolto questo amico mi diceva ci sarebbe bisogno di buoni logopedisti della sinodalità. Allora a me sembra che forse potrebbe essere questo il luogo, il tempo, il momento nel quale educandoci alla sinodalità diventiamo buoni logopedisti per i fratelli della sinodalità.